Musica Voltiamo pagina per parlare di libri ma soprattutto di sport e lo facciamo con due lavori che ogni appassionato di NBA non può non avere sul suo comodino perché raccontano tre leggende del basket mondiale. Sto parlando di Kobe, Mamba Out e Lebron vs Steph, editi da Ken, soprenate per celebrare questi indimenticabili fenomeni, due libri che tra l'altro ripercorrono l'ultima stagione di Kobe Bryant ritirato il 13 aprile di sette anni fa e la mitica rivalità tra James e Curry. Ne parliamo insomma con l'autore di questi due volumi, il buongiorno al nostro ospite Claudio Pellecchia. Ciao Claudio, ben trovato. Dunque due volumi, abbiamo visto appunto anche le copertine degli stessi, Kobe, Mamba Out e Lebron vs Steph, testa a testa, ci danno la possibilità di ripercorrere un magnifico viaggio nel tempo ma ci condono soprattutto dietro le quinte di tre campionissimi e naturalmente non possiamo non conoscere tutte quelle che sono anche i dietro nelle quinte e quali sono questi aspetti che tu vai a trattare? Aspetti che vanno dal fenomeno di Lakers, di Lakers tragicamente scomparso, alla sfida generazionale tra James e Curry. Insomma, come sono nati questi testi? Perché decidi di raccontare tre campionissimi della storia mondiale? Allora, diciamo che la cosa è nata quando l'editore, il mio editore Francesco Lucarella mi contatto, mi chiese di scrivere innanzitutto di questa rivalità tra Lebron James e Stephen Curry che sono all'epoca, noi stiamo parlando del 2018, quando la prima edizione del libro erano gli unici due giocatori, quindi le superstar delle uniche due squadre che nella storia dell'NBA si erano affrontate per quattro volte consecutive sul palcoscenico delle Finals. La cosa che ha ispirato tutto il libro e il volume è stata che per tutta la loro, non solo per tutta la loro carriera, ma per tutta la loro vita, questi due giocatori che anche fisicamente non potrebbero essere più diversi tra loro, in realtà hanno avuto tantissimi punti in comune, a partire ad esempio il fatto che sono nati nello stesso ospedale a tre anni di distanza, ospedale di una cittadina piccolissima come quella di Ekron nell'Ohio, che ha dato i Natali praticamente alle due icone del basket contemporaneo, quelle che sostanzialmente hanno fatto in modo di trascinare l'NBA in una nuova fase storica. Non a caso, e qui ci ricolleghiamo a quello che poi è il secondo volume di cui giustamente hai parlato, hai menzionato, quello dedicato a Kobe Bryant, nel senso che hanno fatto in modo che la NBA, loro dicono molto spesso, passasse di mano, quindi passasse da un protagonista degli anni 2000 e della prima parte degli anni 10 come Kobe Bryant, a coloro che sostanzialmente ne hanno ripercorso, seppur in tempi, in modalità e caratteristiche diverse, le gesta. Tre campionissimi, le gesta e insomma leggenda dello sport del basket mondiale. Posso chiedere cos'è che li accomunava, quali sono gli aspetti che poteva accomunare gli stessi, ma quali invece quelli che poteva distanziarli, cioè cosa erano distanti, cosa invece li accomunava? Ciò che accomuna loro, ma non solo loro, quindi accomuna anche tutti gli atleti di grandissimo livello, che comunque segnano un'epoca, una generazione al di là delle vittorie, è certamente la grandissima etica del lavoro. Noi siamo abituati a vedere soltanto ciò che loro fanno sul campo per poco più di tre ore a sera. Quello che molto spesso la gente non sa e che noi, tra mille virgolette nel mio caso, addetti ai lavori, ci piace raccontare e cosa c'è dietro quelle tre ore a sera in cui noi vediamo l'espressione del loro talento. C'è un lavoro su se stessi, sul proprio corpo, sulla propria psicologia, sulla propria resilienza, che è una parola abusata, ma non ne trovo una migliore, devo essere sincero. È un qualcosa che si allena molto più dei fondamentali ed è questo che permette a questi grandissimi giocatori di durare per così tanto, così a lungo, ad alto livello. Ovviamente ciascuno interpreta questa capacità in modo diverso. Kobe Bryant, ad esempio, era un giocatore ossessivo, forse anche, tra mille virgolette, tossico nell'espressione di questa sua dedizione al lavoro, di questa sua etica, di questa sua passione infinita per il gioco. Le Brown James e Stephen Curry probabilmente sono meno ossessivi, meno, come posso dire, meno sempre tossici da questo punto di vista, però vi assicuro che anche loro, se si va a fondo nelle loro storie personali, si vede come nel loro passato e nel loro presente ci sia tanta dedizione, tanta passione, tanta, loro dicono, attitudine al gioco. Senti, con questi libri racconti agli amanti del basket e non solo i momenti più fulgi dei rappresentativi delle stelle NBA, fotografando comunque anche quelli che sono stati i momenti chiave delle rispettive carriere, ma anche delle rispettive vite personali. C'è un aspetto che maggiormente ti ha colpito nel ripercorre le vite dei tre campionissimi, a te personalmente? Quello che mi ha colpito è il fatto che nonostante venissero da contesti familiari e di vita profondamente diversi l'uno dall'altro, faccio un esempio, LeBron James è nato e cresciuto sostanzialmente nella povertà più assoluta. Stephen Curry e Kobe Bryant sono figli di due ex giocatori NBA, quindi hanno vissuto comunque un'infanzia, un'adolescenza più agiata, tra virgolette anche più semplice. Ecco, nonostante questa diversità di contesto, di background culturale, siano tutti alla stessa pagina del libro, cioè tutti e tre hanno trovato, partendo da punti di partenza diversi, il modo di arrivare ciascuno a modo suo, ciascuno con le sue caratteristiche, ciascuno con la propria attitudine, al massimo livello possibile. E questo, ripeto, se non si ha la giusta mentalità, la giusta emotività, la giusta testa, non lo si può fare. Beh, sicuramente una mentalità incredibile da insegnare anche ai nostri ragazzi per accettare eventualmente anche i momenti no delle fasi della vita. Che ci sono stati anche per loro. Anche per loro. Tra l'altro non possiamo anche non soffermarci, permettimi, sulla tragedia che ha visto la fine di Kobe Bryant, uno dei giocatori più amati di sempre e che tra l'altro aveva anche un profondo legame con il nostro paese, con l'Italia. Qual è, secondo te, l'eredità più grande che ci ha lasciato questo campione? L'eredità più grande credo sia in quella che lui stesso ha definito, ci ha realizzato anche un libro con Andrew Bernstein, che tra l'altro abbiamo anche intervistato nel libro e fotografo, diciamo, di lungo corso di Los Angeles Lakers, è la cosiddetta Mamba Mentality. Qualcuno pensa che si espressione, appunto, come dicevo, di quella mentalità tossica per cui l'ossessività, l'ossessione, l'eccessivo dedicarsi a un qualcosa possa portare anche a dei risvolti negativi. Io però credo che vada interpretata come se fosse una sorta di codice del samurai, vale a dire dei precetti etici, dei precetti morali, attraverso cui riuscire in qualsiasi cosa si fa, anche se necessariamente non sia uno sportivo di alto livello, è un qualcosa che ciascuno di noi può applicare anche nella sua vita. Nella propria vita. Tre grandi campioni, se dovessi scegliere un aggettivo per tutti e tre, quali sceglieresti? Allora, per Kobe, con cui piccola parentesi personale, io sono cresciuto, quindi ho una naturale predilezione, per lui direi ossessivo. Per Steph, Curry direi talentuoso, anche se mi rendo conto che sia sottostimante di quello che è stato. Per Lebron James è assolutamente predestinato, perché è da quando aveva 18 anni che si sente dire che sarà il più forte di tutti e riuscire a convivere con la pressione, averlo dimostrato, non è per tutti. Beh, complimenti. Abbiamo parlato di Kobe Mambao, Lebron vs Steph, editi da Kenneth, con gli autori. Un libro che appunto vanno a ricordare, a celebrare le memorie di te grandi campionissimi del basket mondiale. Abbiamo parlato con l'autore Claudio Pellecchia, grazie di essere stato qui con noi Claudio. Pubblicità, a fra pochissimo.